Ma come si fa ad essere un artista e a non conoscere libri manuali come questi? Sono fondamentali. Se mi seguite in questo percorso vi illustrerò otto libri indispensabili per un artista e alla fine vi mostrerò anche il mio laboratorio e alcune mie opere che ho eseguito seguendo proprio questi manuali. Seguitemi. Oggi desidero parlarvi di alcuni testi e manuali fondamentali per gli artisti poiché alcuni di loro racchiudono saperi e conoscenze importantissime. Altri offrono spunti e favoriscono la creatività e l'autostima. Si tratta di otto libri. Vi chiedo gentilmente di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like se il video vi piace e di condividere e lasciare un commento. L'ordine scelto con cui vi presento questi testi non è legato alla loro importanza piuttosto a una logica tematica. Iniziamo subito con il trattato della pittura di Leonardo. Si tratta di una raccolta di pensieri e appunti tratti dai suoi manoscritti. Leonardo durante la sua vita iniziò a scrivere diversi trattati e una serie grandissima di appunti e disegni. Considerate che tutto questo materiale dopo la morte del maestro fu affidato a Francesco Melsi che lo custodì e insieme a altro materiale lo ricopiò e lo compilò. Si tratta quindi di un'opera composita questo trattato, compilata da un allievo e pubblicata solo dopo la morte dell'artista. L'intenzione di Leonardo di comporre una grande opera sulla pittura comunque è nota e l'organicità dello scritto fa pensare che Leonardo avesse concepito proprio il trattato suddiviso in due grandi sezioni. La prima è una sezione teorica dove afferma i principi ideologici e filosofici della pittura con i principi della prospettiva, di luce e ombre. Una seconda invece più pratica in cui il maestro dà una serie di consigli e precetti per esempio sulle proporzioni di corpi e delle figure e sulla rappresentazione dei moti e degli elementi naturali. Il filo conduttore di tutto il trattato comunque è l'esercizio dell'arte di sapere osservare quasi scientificamente e cogliere i segreti della natura. Questo è quello che conta per Leonardo. Cogliere tutti gli aspetti che determinano la nostra percezione visiva. Il trattato si apre con una disputa proprio sulla preeminenza della pittura che logicamente è l'arte prediletta di Leonardo rispetto alle altre arti. Così la pittura vince sulla scultura poiché per esempio a differenza di questa può abbracciare tutte le cose visibili e dispone solo di una superficie piana e quindi deve conquistare rilievo e profondità spaziale. Per questo è più difficile. La pittura resta sempre per Leonardo il modo supremo di esprimere la realtà attinta attraverso la conoscenza e quindi veramente questo trattato è fondamentale. Come fondamentale è anche il libro dell'arte per esempio di Cennino Cennini. È il più antico testo italiano sulle tecniche artistiche medievali. È stato scritto a cavallo tra il XIV e il XV secolo in un volgare di base tosco fiorentina. Cennino Cennini era originario di Corle Valdelsa e si era formato proprio a Firenze nella bottiga di Agnolo Gaddi che è il figlio di Taddeo Gaddi che a sua volta è allievo di Giotto, l'allievo che rimarrà a 24 anni Taddeo nella bottiga di Giotto. Egli si inserisce quindi Cennino Cennini in una linea di discendenza della grande scuola di Giotto che definì come colui che remutò l'arte di dipingere di greco e latino e ridusse al moderno. Il libro dell'arte è interessante sia sul versante storico-artistico quanto su quello storico-linguistico, soprattutto perché ci sono tantissimi termini artistici ancora oggi in uso come acquerello, annerire, cangiante, contorno, fresco, disegnare, sfumare, tempera, tratteggiare, sono tutti termini che ancora oggi noi comunemente usiamo. È veramente un'utilità pratica di tutto il trattato per gli artefici non solo dei tempi passati ma anche per noi oggi. Viene usato considerate ancora oggi nell'Accademia di Belle Arti e nei corsi di restauro come manuale proprio di riferimento, almeno sul piano storico-teorico. Lui, pensate bene, Cennino Cennini inizia questo suo trattato presentandosi molto umilmente come piccolo membro esercitante nell'arte di dipintoria. In questo libro troverete come dipingere su tavola, a fresco, come costruire pennelli, come macinare pigmenti, preparare colori, come disegnare il corpo umano. Troverete anche un dizionario sulle parole che a noi sembrano un po' strane, che lui ci traduce svelandoci tutti i segreti del mestiere. Altro testo che non può mancare in una biblioteca di un pittore o di uno storico dell'arte o di un amante dell'arte è l'abecedario pittorico di Maria Bazzi. Contiene ricette per tutte le tecniche pittoriche e anche una ricca bibliografia di tutte le epoche. L'abecedario attualmente non è più in commercio quindi potete acquistarlo nelle librerie antiquarie oppure trovarlo nelle biblioteche. Maria Bazzi aveva studiato la tecnica pittorica e gli accostamenti del colore e anche il loro deterioramento. Considerate e conosce benissimo la chimica applicata alla pittura e nel libro troverete ricette su come preparare i colori, fabbricare le vernici, le colle, come lavorare per esempio ad affresco, ad incausto, scegliendo le ricette più stabili, migliori e efficaci nel tempo. Lei sceglie per noi le soluzioni migliori e ce le presenta. Considerate che anche io uso molto questi manuali. Ci lascia la ricetta per esempio anche di Van Dyck, è la ricetta che ritiene che sia efficace per il pittore sullo schiarimento dell'olio di lino. Essendo la pittura fatta di materia e di materiali bisogna saperli conoscere e sapere appunto proprio come comportarci anche con questi materiali. E questo è un libro fondamentale che suggerisce veramente ottimi consigli, quindi un libro che vi consiglio proprio a tutti voi anche questo di possedere. Un testo straordinario è anche il manuale del falsario di Eric Hebborn, anche questo non si trova più in commercio. Lui era un inglese, era nato a Londra nel 34 e il problema è che il suo stile non incontrava il favore né dei critici e neanche dei compratori, quindi che cosa fece? Si mise a copiare la maniera degli artisti italiani del passato, riuscendo a fare dei veri e propri capolavori che lui vendeva praticamente falsi. Morì a Roma nel 1996 in circostanze misteriose poiché fu trovato con il cranio fracassato nella zona di Trastevere. L'inchiesta che fu aperta stabilì che le cause erano naturali in conseguenza di una caduta accidentale, c'era un temporale quella sera. Gli amici però i conoscenti hanno sempre sostenuto che fu ucciso. Nel libro Hebborn fa una precisazione e lui ci dice queste parole, siamo contraffattori, non vandali, creatori e non distruttori. Perciò quando raccogliamo materiale per le nostre creazioni dobbiamo rispettare il lavoro degli artisti che ci hanno preceduto. Non strapperemo per esempio una pagina di un bel libro, come non rascheremmo il colore da una tela di Rembrandt. Insegna lui come invecchiare per esempio la carta nuova, come preparare la pittura a olio e per esempio si sofferma su tutte le tipologie di olio, elencando per esempio le peculiarità dell'olio di lino, dell'olio di noci, olio spremuto a calda, freddo e così via. Altro testo che serve questa volta per esercitarsi nel disegno è l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, la sezione dedicata alle tecniche artistiche. L'enciclopedia elaborata da Diderot e d'Alembert risale al XVIII secolo e può essere considerata veramente il primo esempio enciclopedico, nonché uno dei primi grandi manifesti rappresentativi proprio dell'illuminismo europeo. Nonostante le diverse censure e dei vieti politici a cui dovette andare incontro negli anni della sua pubblicazione, l'enciclopedia rimane tuttora una delle fonti di maggior rilievo culturico e culturale. Collaborarono alla sua creazione, oltre che Diderot e d'Alembert, più di 150 autori. In essa per esempio troverete spunti e disegni nella sezione delle tecniche artistiche con tavole, con tipologie di volti, panneggi, pose, paesaggi e vengono elencati anche tutti i mariteriali delle varie arti. Poi vi voglio consigliare altri due libri che questi servono per tirare fuori la vostra creatività. Uno si intitola Ruba come un artista, è una guida proprio alla creatività e offre al lettore dei preziosi principi per scoprire e valorizzare il proprio talento. L'autore sostiene che nessuna opera è originale e tutto deriva dalle opere altrui. Occorre quindi imparare a rubare dal lavoro degli altri. Logicamente bisogna rinventare quello che gli altri comunque hanno già creato, però dagli altri possiamo prendere ispirazione. L'importante è partire dagli interessi e dalle passioni personali, perché se qualcuno fa qualcosa che lo appassiona veramente questo trasparirà. Anche un hobby può diventare un lavoro, lui dice l'autore retribuito. Ci ricorda infine che la creatività affiorisce dalla normalità. Bisogna cercare di essere gentili, non farsi nemici, non contrarre debiti per mettere in atto una nostra attività, non trascurare la cura di noi stessi e restare sempre con i piedi per terra mentre si coltiva la propria immaginazione e creatività. Un altro testo è non conta volere ma volere contare. È un piccolo va de mecum, questo utilissimo per chi voglia sfruttare al meglio le proprie capacità. È come una bibbia tastabile, in grado di farci immaginare l'immaginabile e rendere possibile l'impossibile. A tutte quelle persone di talento però che sono un po' timide, che non riescono a lanciarsi. Anche questo però è un testo interessante che considerate, leggerete in due ore non di più. Il fattore dominanza. Questo è l'ultimo testo che vi consiglio, che non può mancare perché serve per migliorare l'apprendimento attraverso la conoscenza proprio del proprio occhio, orecchio, emisfero cerebrale, mano e piede dominanti. Logicamente ognuno di noi ha alcune di queste parti dominanti in maniera diversa. Carla Annerford che è l'autrice, è una biologa, è un'educatrice con più di 40 anni di esperienza didattica e 20 anni li ha passati come docente di biologia e 4 anni come consulente alle scuole elementari e medie per i bambini che hanno delle difficoltà di apprendimento. Il libro ci insegna a conoscere le specificità, proprio le differenze dei due emisferi, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, quindi due emisferi celebrali per ciò che concerne proprio l'apprendimento, mostrando differenti profili, ben 32, profili di dominanza e i loro effetti sulle diverse competenze. Il libro praticamente è scritto in maniera molto chiara, fornisce un'analisi dettagliata di ogni tipologia di individuo e ognuno può ritrovarsi in uno di questi 32 profili. Per ognuno troviamo i consigli per poi migliorare il proprio apprendimento sfruttando e utilizzando i propri fattori di dominanza, logicamente a proprio vantaggio. È un libro indispensabile per chi è insegnante, per riuscire a capire più approfonditamente anche il diverso modo di apprendere dei propri allievi. Porto alla scoperta nella mia galleria di tutte quelle opere che ho realizzato con le ricette tecniche antiche di cui dicevamo. Questo è il mio studio galleria, la mia sala con anche i miei dipinti contemporanei, però per esempio questo è un dipinto ispirato a Giuseppe Arcimboldi, la canessa di frutta che si rigira e diventa un volto. Anche questo è fatto con tecniche antiche, dalla preparazione della tela, al telaio, tutti gli effetti. Pure questo è un particolare della colazione dei canottieri di Renoir, eseguito proprio con le stesse tecniche. Oppure faccio vedere altre opere, anche qui abbiamo una natura morta del Seicento, anche questo è fatto a tutti gli effetti, il craquelè, la materia, come si vede nelle opere antiche, perché è stata realizzata proprio con tecniche particolari. Non ho usato colori nuovi, ma ho preparato tutto dall'inizio alla fine. Anche questi per esempio sono uccellini in stile antico, anche questi non so se riuscite a vederlo, ma hanno un craquelè, hanno delle crepe, oppure per ogni dipinto io eseguo tecniche, questa è Kienerk e questa è una pittura più moderna, però per ognuno io ho usato la stessa tecnica, ho cercato di riprodurre. Questo ve l'ho mostrato, è il dipinto che ho ripreso anche, ho invecchiato la carta, ho invecchiato anche, ho usato la china, è un seppia e ho fatto il soggetto e vi ho mostrato di Diderot e da Lambert. Oppure vi posso mostrare per esempio una Venezia in stile antico, anche questa con tutte le crepe tipo canaletto o ancora, questa è una copia di Tamara dell'Empicca, realizzata anche questa con la tecnica originale, questa è una natura morta, un fiore, questo è un disegno a carboncino, uno studio fatto a carboncino, questa è la mia tavolozza, guardate, anni e anni di lavori e spessori, fino ad arrivare anche a un'opera come questa, che è un particolare, lo riconoscete, di Caravaggio, che ho rifatto, dove c'è appunto il bambino, Maria, ho tolto Giuseppe e poi, per esempio, un'opera come questa, anche questa che è fatta in stile antico. Questo invece è un omaggio a Picasso, oppure ancora questo fatto su carta invecchiata con tè e caffè, è una natura morta che ho fatto in stile antico, ha una cornice tra l'altro antico, molto bella, e ora vi porto a scoprire anche un paesaggio, per esempio questo, un paesaggio in stile fiammingo, anche qui troverete il cretto e vari effetti del tempo. oppure ancora questa è una madonna fatta su una tavola, fondo oro, è oro zecchino, tutta anche punzonata a mano, anche le cerniere, tutto fatto in maniera originale. Mi sono ispirata al Beato Angelico, ma è un trittico di mia invenzione, anche se certe parti sono riprese dal Beato Angelico e sicuramente l'idea è quella di avere un progetto comunque ispirare, rubare, sì, ma avere comunque una concezione tutto comunque progettato, al centro c'è una maestà, sotto ci sono scene dall'annunciazione, la adorazione dei magi, la fuga in Egitto e la pietà, sopra c'è la risurrezione, qua c'è la crocifissione, qua su in alto ci sono nella parte chiusa due profeti che hanno annunciato la nascita di Cristo, la suddio padre e da chiusi trovate sempre altri due profeti e angeli musicanti. Vi saluto poi con queste ultime due opere, abbiamo una madonna di Francesco Raviolini detto Francia, questa qui è fatta su tavola, quindi legno antico, anche qui trovate, non so se riesco a farvelo vedere, il leggero craquelè e questa invece è Margaux di Renoir e anche qui si vedono i dettagli. Adesso vi saluto e torno al mio lavoro con colori e pennelli per lavorare, soggetto qua. Ciao ciao! Grazie per avermi seguita, vi ricordo se il video vi è piaciuto di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale. Grazie per avermi seguiti, vi ricordo se il video vi è piaciuto di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale. Grazie a tutti! Grazie a tutti.